Essendo entrato in azienda nel 77 potete immaginare da quanto tempo e quindi è chiaro che è il primo pensiero di ogni giorno, no? Beh, insomma, la Minetti è tutto. Ci sono molte aziende familiari, molti figli di imprenditori o nipoti, come nel nostro caso, che hanno vissuto situazioni analoghe. Praticamente subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a quel tempo c'erano mezzi meccanici, mezzi militari in fase di vendita, di rotamazione, e quindi avevano avuto l'opportunità di acquistare questi mezzi e da qui smontare alcuni prodotti, tra cui metalli preziosi, rame, argento e poi alla fine chiaramente i cuscinetti. Da lì è nata l'idea. Il cuscinetto si era capito subito da parte loro che era qualcosa che poteva avere un grande movimento, perché potete immaginare quali campi di applicazione può avere, ovunque c'è qualcosa che gira, e quindi alla fine la scelta è stata quella.